Ben trovati nell'angolo dello sport. Stavo riflettendo un attimo sulla necessità di avere fede e di credere nei miracoli. Del resto quando le cose si fanno difficili nella vita di ognuno di noi ci attacchiamo al miracolo e se qualcuno ci racconta di qualcosa che di miracoloso c'è allora siamo propensi a credere e i tifosi del Pescara oggi si attaccano al miracolo per credere in una salvezza che al momento a livello aritmetico potrebbe essere possibile ma che a livello tecnico sembrerebbe molto difficile. Abbiamo qui o alle spalle messo dal regista Leo Di Blasio una foto di Montari e ringrazio ancora caldamente l'amico e collega Luciano Rapa per la disponibilità che ci offre del suo archivio fotografico di Pescara Sport 24. e Montari dovrebbe essere l'oggetto miracolistico cioè colui che dovrebbe con il suo talento fare il miracolo di salvare il Pescara. Per poter far sì che il problema salvezza si possa concretizzare bisogna cominciare a fare da subito i punti e quindi il primo avversario che troviamo sulla nostra strada è il Sassuolo e il Sassuolo deve essere superato. C'è già un piccolo precedente che ci aiuta. Il Sassuolo è stato battuto in Coppa Italia da una squadra di Serie B che è il Cesena e mi pare di avervi ricordato nell'ultima puntata che c'era un po' il derby delle panchine tra Di Francesco Sassuolo e Camplone per il Cesena. Ha vinto Camplone della Serie B. Se ha battuto Camplone di Francesco potrebbe anche Massimo Oddo battere di Francesco e dare i primi tre punti, i primi veri tre punti ad un Pescara che ha sofferto moltissimo in classifica. Stanno lavorando al Poggio, a parte hanno lavorato Bovo, Campagnaro, Cionber, Vittorini, Zampano, Brugman e Pepe. Gli influenzati sono Fornasier e Memuschai, però potrebbero rientrare. Kubas col Sassuolo non ci dovrebbe essere perché il transfer pare che è ritardi, però può darsi pure che ci sia. Intanto poi ci sono stati i movimenti ufficiali. Pettinari è andato alla Ternana, Brugman venne chiesto dal Genk, Manai è andato al Pisa. Baebek, questa è la notizia positiva, è rientrata in gruppo. Quindi il miracolo può avvenire. Chiudiamo qui. Un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie.